Il nostro obiettivo continua a essere quello del massimo rispetto dell'ambiente e questo passa attraverso la stipula anche di convenzione, il coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio. Infatti, finalità principale dell'Associazione Nuovo Saline sarà quella di entrare nelle scuole, di fare formazione, di fare percorsi didattici, oltre che di monitorare la qualità delle acque del fiume Saline e nonché delle acque balneabili del Comune di Montesilvano. Tutte iniziative che oggi trovano collotario con l'inaugurazione di questa sede che diventa un altro punto fermo in quell'implementazione rispetto ambientale su cui teniamo particolarmente. Siamo riusciti, e per questo ci abbiamo messo un po' di tempo, a realizzare tutte le strutture dalla vernice delle pareti fino al singolo chiodo, fino agli acquari che vedete alle mie spalle o buona parte del laboratorio, fatto totalmente con materiali di riciclo. Quindi, partendo da beni che sarebbero stati destinati a diventare rifiuti, siamo riusciti praticamente a riconvertirli in materiali funzionali. Questo fa parte anche di quella tipologia di insegnamento che vogliamo dare alle nuove generazioni, perché il modo più concreto di combattere l'inquinamento sta proprio nella consapevolezza, nella responsabilità dell'utilizzo dei materiali. E finalmente siamo riusciti a creare questo polo di didattica ambientale che credo che possa rappresentare un'unicità sul territorio dal punto di vista dell'opportunità di poter trasmettere determinati concetti, determinati elementi di responsabilità e consapevolezza che passano attraverso la didattica ambientale.